Ancora una volta ben trovati da Mr. Gadget, l'appuntamento dedicato alla tecnologia, quello con le recensioni dedicate ai prodotti che più amiamo. Buon anno intanto, perché questo è il primo appuntamento del 2014 che vorrei dedicare ad un prodotto che sto provando da qualche settimana molto interessante. È il prodotto più grande in assoluto, perché è il più bello, perché è il più completo e perché è quello con il display anche più vasto e più grande di Lumia. Guardiamo dunque il Lumia 1520. Ecco dunque l'impatto estetico per quanto riguarda il Nokia Lumia 1520. Io torno a farvi vedere ancora per, in questa occasione, la confezione con ovviamente il telefono. Il piripacchiolo, detto anche pistolicchiolo per accedere alla SIM. E poi qui sotto invece gli altri guris, ovvero il caricabatterie, che è ormai quello classico di Nokia. E poi come al solito vedete le cuffie di un colo coordinato con quello dello chassis del telefono. Quindi le troverete in alternativa, a seconda del colore che comprerete, rosse, gialle, bianche oppure nere. Questo è il contenuto della scatola. E poi soprattutto però la cosa fondamentale dentro questa scatola è questo oggetto. Allora, per capire la dimensione. Allora, vediamo un attimo. Questo è il Galaxy S4, che sembra un nano nei confronti di questo prodotto. E questo è l'iPhone. Insomma, per capire che tipo di sberlona, di padellona, di veramente prodotto gigante sia questo Lumia 1520. Questo nasconde ovviamente uno schermo veramente, veramente, veramente impressionante. Allora, io ho lasciato ancora in modalità aereo. Adesso usciamo immediatamente dalla modalità aereo per poi mostrarvi anche alcune cose che riguardano il software che magari guarderemo online. Allora, primo impatto, ovviamente lo schermo, ma torniamo poi dopo su quello che riguarda il software. Adesso vediamo i dettagli invece per quanto riguarda l'aspetto esterno. Pulsante diretto per la fotocamera. Potete scegliere voi quale applicazione aprire. Il pulsante di accensione e spegnimento, il volume rocker, detto anche bilanciere del volume, controllo del volume. Parte alta con la cuffia, la connessione per le cuffie 3,5 mm. Vi ricordo come al solito che gli accessori di iPhone, che sono nati per iPhone o per i telefoni Android, non funzionano con questa connessione. Praticamente non funzionerà il microfono se inserite, ad esempio, la cuffia Bose, che è nata come accessorio originale per iPhone. Qui c'è la connessione, il cassettino, insomma, con il pilipacchio. Voi fate leva con il pilipacchio e ping, saltano fuori nano SIM e micro SD. Poi per il resto è tutto pulito, pulito, pulito. Qui sotto c'è la connessione micro USB e sul retro, ovviamente, anche la fotocamera da 20 megapixel con flash LED. Prodotto, abbiamo visto dal punto di vista estetico, sicuramente molto interessante, impegnative le misure per quanto riguarda questo device. Ma dentro che cosa c'è? Proviamo a dare un occhio anche più nel profondo al Lumia 1520. Beh, per andare dentro questo telefono bisogna vedere il software a partire da questa cosa che ormai è stata introdotta da molto tempo. C'è l'accensione con due tocchi. Peraltro LG dice di aver implementato questa funzione. Insomma, ci sarebbe qualcosa da dire, visto che Nokia aveva introdotto questa funzione molto prima di LG. Ma vediamo un altro aspetto. Allora, questo telefono, questo telefono, vedete che con questo schermo da 6 pollici introduce intanto il fatto di poter mettere fino a 6 icone, a 6 file, quindi di icone in orizzontale, il che permette di avere tantissimi collegamenti in home page. Ma quello che credo sia un aspetto importante è guardate l'angolo di lettura, l'angolo di visione di questo prodotto, che è veramente al limite dell'impressionante. Cioè, nel senso, più di così, praticamente la cosa positiva è che se avete questo telefono in mano e state scrivendo con qualcuno vicino, io farei molta attenzione a quello che scrivete. Cioè, se dovete salire in metropolitana e scrivere che il vostro vicino ha le ascelle che puzzano, pensateci un attimo perché potrebbe accorgersene. Però l'altra cosa invece molto bella è che se qualcun altro sta scrivendo vicino a voi, insomma, potete andare a curiosare tutto quanto. Quindi, angolo di visione veramente impressionante. Poi, come al solito, insomma, il menu è quello classico di Android. Vediamo un attimo con la divisione praticamente data per lettera, per cui è facilissimo muoversi all'interno del menu. Elementi fondamentali, i soliti di Windows Phone. Secondo me, quello fondamentale per quanto riguarda Windows Phone è la voce I.O. che vi permette di pubblicare un aggiornamento in tempo reale o di vedere le notifiche sia di Twitter che di Facebook. Anche le connessioni con LinkedIn ovviamente sono a vostra disposizione. E vedete praticamente tutte le novità dei vostri contatti che vengono riportati in un colpo solo. In pratica, potete anche utilizzare il social network senza il bisogno di una applicazione base. Le informazioni essenziali sullo schermo le avete viste anche prima. Da questa posizione voi tappate due volte e puff! Avete la possibilità di accedere al vostro telefono. Come al solito la personalizzazione di questo spazio è quella che ormai conosciamo. No, icona piccola, icona grande oppure spostandola anche in questa posizione. Non tutte, ma vi danno, adesso vi faccio vedere quali. Questa ad esempio, quella delle foto. Vedete, vi dà la possibilità di andare piccolissimo, medio, microscopico. Oppure, vedete, questa dimensione grande. Non tutte le tiles, ovviamente, non tutte le mattonelle sono attive. Ma stanno aumentando le applicazioni che vi danno informazioni in tempo reale. Vedete, ad esempio, in questo caso 9 gradi, nebbia leggera con Bing, meteo. Fotocamera, beh, questo è un pezzo di forza, un punto di forza sicuramente notevole per quanto riguarda Lumia. Fotocamera che ha la possibilità di essere utilizzata o così semplicemente con l'automatismo oppure con tutti questi aspetti, tutti questi comandi che vedete potete utilizzare e che potete guidare come ISO, apertura, come tempo di esposizione e soprattutto come bilanciamento del bianco. Se però non vi sentite in grado di gestire una cosa di questo genere potete andare completamente in automatico e utilizzare questa funzione, secondo me, comodissima che è la funzione smart. Che cosa succede in pratica? Voi scattate una fotografia tenendo fermo il telefono. Una volta che la fotografia è scattata, poi potete, tornando sulla fotografia stessa, decidere praticamente quale funzione volete utilizzare tra queste che sono a disposizione sul telefono. Potete veramente sbizzarrirvi con l'editing di foto a posteriori. Come sempre ovviamente accade anche con il Lumia 1020 avete la possibilità, nel caso in cui scattiate la foto con la modalità fotocamera normale, ecco vediamo, vi faccio vedere un attimo uno scatto in modalità normale, abbiamo scattato la fotografia che è stata memorizzata, a quel punto viene fatto il reframe o resize della fotografia, quindi non si usa praticamente mai lo zoom in tempo reale, lo si fa a posteriori. Vedete, io adesso ho zoomato potentemente questa foto e l'ho salvata e l'ho messa nel rullino in questo modo. Altre funzionalità fondamentali di Windows Phone? Beh, io direi che, insomma, una delle cose principali vengono soprattutto adesso in particolare per quanto riguarda i telefoni Nokia, dalla possibilità ad esempio di utilizzare questo telefono anche con i guanti, per cui potete misurare la sensibilità del tocco senza grossa difficoltà. Quello che secondo me è molto carino a questo punto è il fatto anche, ad esempio, di poter pinnare, non è una cosa dell'Umia 1520 ovviamente, ma di Windows Phone, ma lo mostro a chi magari non conoscesse questi telefoni, la possibilità di pinnare ad esempio i contatti direttamente nella home page. Voi entrate nella vostra rubrica, non ve lo mostro adesso perché vi dovrei far vedere i numeri di telefono di qualcun altro, cosa non buona, potete entrare in un contatto, sceglilo di metterlo in home page e quindi a questo punto cliccando sopra l'immagine del vostro contatto potete andare a telefonargli o a mandargli un messaggio direttamente. Come sempre accade, questo credo che ormai lo sappiate, potete anche costruire con i vostri contatti, vado a pescare i contatti, potete in pratica scegliere di costruire dei gruppi con cui potete comunicare in tempo reale, con un solo clic potete spedire messaggio anche a 100 persone contemporaneamente. Quindi insomma, vedete, più o meno le funzionalità sono quelle che noi conosciamo molto bene, la caratteristica credo fondamentale di Lumia sia quella che insomma vi mostrano un prodotto di, vi portano scusate un'esperienza d'uso molto consolidata con semplicemente delle dimensioni dello schermo che di volta in volta cambiano. Questo è il nuovo sito di Mr. Gadget, bello, bellissimo, fantastico, meraviglioso, incredibile, eccezionale, eccetera, 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 ma noi vogliamo andare a vedere il Corriere della Sera, non scegliamo il Corriere della Sera che è il nostro benchmark ormai abituale per quanto riguarda il mondo internet, vediamo che, andiamo alla ricerca, fai la brava perché adesso ti spacco in 22 pezzi, vedete, io tra l'altro in questo momento non ho regolato luminosità, non ho regolato luminosità, stiamo semplicemente viaggiando con la connettività del telefono con un display che in questo momento ci mostra una luminosità automatica e nonostante questo bisogna dire che la qualità e la visibilità, la lettura delle informazioni sullo schermo è veramente notevole. Adesso vado a pescare anche il Corriere in modalità desktop in modo tale da vedere la pagina nel suo insieme, tenete conto che siamo collegati in 3G quindi ci potrebbe essere qualche rallentamento per quanto riguarda la visualizzazione, però insomma lo Snapdragon qui già funzionava perfettamente per quanto riguarda la versione ovviamente dual core il Windows Phone, immaginate con uno Snapdragon che cosa possa essere, davvero un'esperienza molto bella di utilizzo, allora vi faccio vedere anche lo scorrimento della pagina, vedete, non velocissimo ma è bilanciato molto bene quel browser Internet Explorer per quanto riguarda l'esperienza su Windows Phone. Molti di voi mi chiedono spesso per quanto riguarda il gaming, per il gaming questo è un prodotto semplicemente secondo me strepitoso perché se pensate al fatto che abbia un display così grande con una facilità quindi di tocco anche molto avanzata, veramente si arriva ad un'esperienza di gaming che piace molto. Allora vi mostro in questo caso Angry Birds Go, vediamo insomma di superare tutte le parti preliminari del gioco e di arrivare finalmente a quella che è la fase di gioco. Vedete potete scegliere in questo caso ad esempio di avere una guida che è quella che potete utilizzare o mazza che manico che sono, tutta indirapata o beh insomma comunque questo è il gioco, vedete, giocare su una dimensione di questo genere ovviamente è una cosa molto molto piacevole, ho provato anche dei giochi che sono un po' più sofisticati dal punto di vista dell'impegno per la grafica e bisogna dire che si comportano comunque molto molto bene. Adesso sono entrato nel trip di giocare, staremo qua insieme per vedere per una settimana come si comportano gli uccellacci di Angry Birds. Però insomma gaming è veramente notevole, fotocamera notevole, browser notevole, scrittura ecco, questo è un altro elemento secondo me fondamentale perché guardate quante grande rispetto al pollice la tastiera su Lumia 1520, quindi qui scrivere è veramente semplicemente fantastico. Questo secondo me è un aspetto notevole tenendo conto soprattutto del fatto che i comandi vocali di Windows Phone non sono esattamente il massimo. Ciao virgola, puoi per favore farmi sapere quando arrivi punto di domanda? Vedete che la virgola non è stata presa, vi faccio vedere insomma qual è il risultato, la virgola non è stata presa, è punto di domanda, scrive punto di domanda, poi scrive anche il segno, quindi insomma diciamo che da questo punto di vista l'esperienza non è proprio il massimo. Allora avere una tastiera con una fruibilità elevata aiuta sicuramente tantissimo. Per quanto riguarda l'audio, io non credo, andiamo subito a vedere un attimo perché non credo di avere della musica a bordo, però magari possiamo provare con Nokia Mix Radio che potrebbe essere una possibilità per sentire un po' anche qual è la qualità dell'audio l'audio dal punto di vista proprio del viva voce. No, io vorrei sapere tra l'altro perché Nokia Mix Radio ha deciso che per me va bene Gigi D'Alessio, ma puff, schippiamo. Gianluca Capozzi, ma che c'avete con me? Oh, e basta! Ok, adesso con gli stadio possiamo arrivare insomma ad un buon livello. Però insomma vedete che anche l'audio in viva voce è notevole, l'audio in capsula lo è altrettanto la ricezione più che buona. Insomma stiamo parlando di un prodotto veramente di alto livello. L'abbiamo provato fino in fondo, abbiamo spremuto veramente alla grande il Lumia 1520 che secondo me è davvero uno di quei prodotti che probabilmente pongono una linea di demarcazione nella storia di Windows Phone, Snapdragon, avete visto uno schermo molto più grande, l'espansione di memoria con la micro SD, insomma sono tutte caratteristiche che rendono questo telefono fortemente competitivo rispetto anche ad altri sistemi operativi. Poi ovviamente come al solito la scelta è vostra, però devo dire che se ci fosse questo prodotto in versione 5 pollici sarebbero tempi duri per Android e anche perché no per iOS. Vedremo quello che ci riserva il mondo Lumia per i prossimi mesi e intanto davvero complimenti per il Nokia Lumia 1520.